Impresa Invernizzi SRL, affermata impresa di costruzioni milanese con 60 anni di storia, ha siglato una partnership con Domoticuan SRL, uno dei più importanti protagonisti italiani nel settore della domotica integrata, per la realizzazione di case intelligenti, ad alto profilo tecnologico. Fabio e Daniela Invernizzi, titolari dagli Impresa Invernizzi SRL, da sempre sensibili alla tecnologia e alle elevate prestazioni delle abitazioni che costruiscono, garantiscono ai propri clienti, immobili unici dal confort senza eguali. Per questo motivo hanno deciso di affidarsi a Domoticuan per la realizzazione di un sistema di domotica integrata esclusivo. Siamo orgogliosi di collaborare con una società di costruzioni così affermata, con più di mezzo secolo di storia alle spalle ed edita all'integrazione tecnologica nelle abitazioni. Possiamo così garantire, anche nelle case in costruzione, un livello di domotica decisamente più alto rispetto a quanto presente oggi sul mercato. Non una semplice automazione di luci, tapparelle e riscaldamento, ma una vera casa intelligente alla quale sarà possibile integrare nuovi funzioni. Dichiara Paolo Faro, fondatore di Domoticuan, progettisti di case intelligenti. La partnership sarà operativa da subito, in quanto è già in corso una realizzazione di un nuovo complesso residenziale alle porte. Di Milano, composto da 32 appartamenti, trilocali e quadrilocali, i quali saranno consegnati all'inizio del 2020. Il complesso residenziale immerso nella tranquillità di un contesto caratterizzato da piccoli edifici, è composto da due palazzine disposte su tre livelli. Tutti gli appartamenti avranno le seguenti caratteristiche, serramenti in legno alluminio con vetri stratificati termoacustici completi. Di zanzariere, pavimenti in gress porcellanato e parquet, sanitari sospesi, riscaldamento con pannelli radianti, impianto centralizzato, ibrido con caldaia e condensazione combinata a pompa di calore, impianto autonomo di condizionamento e di ventilazione meccanica controllata. Domoticuan, installerà in ciascun appartamento, Smartomuan, il sistema di domotica integrata professionale preferito, da chi ristruttura o ha una casa in costruzione. Smartomuan prevede inoltre, l'integrazione dell'impianto anti-intrusione, video-sorveglianza, anti-allagamento, controllo dei carichi, punto e virgola distribuzione audio e distribuzione video.